Questo programma è offerto da Tecnocampus Mercoledì 10 aprile, buongiorno da Teleprima Benvenuti alla quotidiana Rassegna Stampa Anche questa mattina come ogni giorno è offerta da Tecnocampus Vediamo subito che tanti sono i fatti in primo piano come ogni giorno Visto che il nostro governo ci ha abituato proprio a questo A tanti fatti, a tante discussioni Ma anche a quello che è il DEF Che adesso è stato approvato proprio nella giornata di ieri E oggi si trova nelle prime pagine dei quotidiani E ci rende ovviamente tutto sicuramente più agevole nella discussione Ma vediamo subito i fatti in primo piano E ci spostiamo su il fatto quotidiano E partiamo proprio dall'alto Dove vediamo il voto in Israele Dagli exit poll a testa a testa Tra l'attuale premier Bibi Netanyahu e il generale Gantz E intanto l'ipotesi grande coalizione Poi uno dice che si butta a destra E ancora continuiamo a vedere proprio in tema di governo italiano Banche e tasse Spariti rimborsi ai truffati Il DEF Che come dicevo prima è stato approvato ieri E è vuoto Tria fa urlare di maio E Salvini Reddito a quota 2 milioni Infatti è quello che viene definito L'ennesimo rinvio per il provvedimento Che sblocca i rimborsi alle vittime del crack bancari Nel documento di economia e finanza Solo promesse di una flat tax per famiglie Per l'europea il Movimento 5 Stelle conta sui veri dati di richiesta del sussidio Intanto per le elezioni europee Matteo è candidato per finta ovunque Nei 5 Stelle è rivolta anticapilista Rosa Mentre da Napoli De Magistris svende i beni di Napoli Ed è solo l'inizio Insomma questo è l'annuncio che viene dato proprio su questa testata nazionale Sull'attività del primo cittadino di Napoli Sembra proprio che ci siamo addentrati in una vicenda di quelle sempre più complicate Napoli e le sue ricchezze svendute E questo è un allarme che viene lanciato non solo da questa testata Ma poi lo vedremo proprio in corso di rassegna stampa E ancora ci spostiamo sulla prima pagina di questo quotidiano E vediamo che da Roma ce ne ha sbafo Fu cacciato dal PD Adesso è stato assolto in Cassazione Adesso che la sua figura è stata ripulita Dice appunto Marino Avete fatto il possibile per sporcare quella che è la mia immagine Quella della mia famiglia Adesso vediamo come possiamo rifare ancora tutta questa situazione Ed ancora vediamo nella parte centrale della pagina La prova del bleff Macron avvia uno studio Pensate un po' dopo 28 anni Quello che viene definito grado zero Il governo chiede ai costruttori di valutare gli investimenti necessari Infatti la Francia non ha stanziato un euro Per la costruzione del tratto francese Per il quale non ha contributi dell'Unione Europea Ma l'Eliseo vuole sembrare attivo sui dossieri Insomma anche per quanto riguarda i rapporti con la Francia Ci troviamo ancora in bilico e soprattutto in una situazione di stallo E ancora vediamo sempre dalla prima pagina L'intervista a ultimo Il generale Nistri deve dimettersi su Cucchi L'arma è stata incapace E questa appunto la sua dichiarazione Su quanto è avvenuto proprio nei giorni scorsi Sulle dichiarazioni rilasciate dal Carbiniere Proprio in relazione a quanto è avvenuto a Cucchi A Stefano Cucchi Alla sua morte Che tanti dubbi aveva lasciato fin dall'inizio E che adesso sono stati tutti confermati Ancora vediamo che cosa accade sempre da questa prima pagina E vediamo che per quanto riguarda l'impero tech Cina compra le università con i soldi del 5G Ancora una volta La vicenda racconta di fatti sempre più importanti Che attestano la presenza di questo Possiamo definirlo impero cinese Proprio nella nostra Italia E come nel modo più classico O forse moderno Che è quello della comunicazione Oggi però lo vediamo attraverso i 5G Che rappresenta l'evoluzione Proprio di questo passaggio di dati Che comunque continuano ad essere sempre in primo piano E intanto nella parte bassa della pagina Un allarme Visto che oggi gli influencer sono al primo piano In primo piano proprio per quanto riguarda Sempre la comunicazione Per quello che riguarda i simboli Che i giovanissimi seguono E vediamo infatti che titola proprio così cursi L'influencer delle anoressiche La sedicenne e le sue 30 vittime adolescenti Quello che viene definita appunto Una vera e propria tortura social Ti sei abbuffata ieri? Sei stata cattiva? Adesso resti in punizione Ma soprattutto vai in bagno Ed espelli il cibo deglutito È vietato mangiare cibo Superiore alle 500 calorie giornaliere Che orte prassa quella soglia Deve fare palestra e tornare nei limiti Nei limiti di peso Bisogna restare magre Un lavaggio del cervello quotidiano Fino a costringere le adepte A rientrare nei parametri di peso Richieste e considerati nella norma L'ultima deriva social È una specie di addestramento all'anoressia Le vittime sono una trentina di ragazze In giro per l'Italia Tutte adolescenti A cavallo tra minore e maggiore età Tra loro anche una quindicenne Insomma E questo appunto Quello che dicevamo Gli influencer rappresentano appunto Una via che viene seguita proprio dai giovanissimi Ma non solo E il loro diktat diventa quanto di più importante da seguire Quando i consigli che vengono dati Sono quelli che riguardano un'alimentazione Sicuramente non equilibrata Quanto piuttosto restrittiva Per far sì che il corpo si adatti a quella che è definita la normalità Allora l'allarme si fa sempre più forte Ma continuiamo ancora a vedere le testate nazionali Ci spostiamo su Libero Nuovo appello allo Stato Adotti lo stile Lombardo Risparmierà 70 miliardi Se l'esecutivo spendesse come Milano Azzererebbe il debito in soli 33 anni E troverebbe i soldi per abbattere le tasse Ma i grillini preferiscono sprecare E intanto vediamo nella parte sinistra della pagina Nell'editoriale di Feltris E Salvini molla Movimento 5 Stelle E pronto un governo tra 5 Stelle e PD E' quello che viene definito proprio da questa testata Il pericolo in vista E infatti aumentano coloro che sollecitano Salvini A rompere il solarizzo con 5 Stelle Allo scopo irraggiungibile di rinnovare in anticipo il Parlamento Premono adducendo un motivo valido in teoria Ossia dicono che la Lega Soggiacendo alle pretese programmatiche dei grillini Sia destinata a perdere consensi Soprattutto da parte di chi accuore l'economia E' vero I conti dell'Italia piangono E non promettono nulla di buono nel futuro prossimo Ma c'è un particolare da non sottovalutare Mettiamo che il capo del Carroccio Stando e stanco di soccombere a Di Maio Compia il gesto estremo Mandando al diavolo il governo in carica Poi cosa accadrebbe Questa è la domanda che si pone questa mattina a Feltri E' quella che comunque vuole rivolgere a tutti noi Proprio per riflettere su questa situazione Ma ancora continuiamo a vedere nella parte centrale della pagina Si continua a parlare di economia Ma in particolare i Dazi USA Penalizzano il vino infatti E la lotta di Trump proprio contro il Prosecco Così cosa hanno in comune Gli incidenti aerei e il vino italiano? Solitamente nulla A meno che il pilota non decida imprudentemente di alzare un po' il gomito Ma non è questo il caso A collegare il nostro Prosecco alla tragica caduta del 737 MAX Della Ethiopian Airlines E la decennale guerra che proprio c'è tra le fabbriche Le industrie e comunque le aziende Di cui abbiamo appena parlato Ed ancora vediamo nella parte centrale della pagina L'interista Candreva Pensate un po' paga la mensa ai bambini Un giocatore di gran cuore E infatti questo emerge dopo la situazione Che ieri è diventata paradosso Proprio sulle testate nazionali Della bimba che comunque non aveva i genitori Che non potevano pagare per lei la mensa scolastica E è stata ridotta a un misero pasto Nei confronti in relazione Comunque ai suoi compagni di classe Quindi mangiando cracker e tonio Per carità tutto è legittimo Ma ovviamente in questo caso Sembra che la legittimità stia da un'altra parte Il caso infatti della bambina povera Racconta proprio questo articolo di Renato Farina Di Minerve in provincia di Verone È stato risolto da uno che a differenza Di quasi tutti noi ha lavorato Invece che con la lingua e la bile Con quella cosina nascosta Che si chiama cuore Del quale di questi tempi O ci si vergogna O si fa ostentazione Perosa Non ha emesso assolutamente comunicati La notizia ovviamente è circolata Rendendo questa vicenda Sempre più complicata C'è chi chiacchiera E chi fa i fatti insomma E ancora vediamo Presentato il DEF Un brodino così Non può guarire l'economia Infatti il documento di programmazione economica È una burla Un panicello freddo Nella migliore delle ipotesi Un diario delle buone intenzioni Non privo di qualche gufata Numeri di libertà Che saranno inevitabilmente corretti In autunno Quando si dovrà scrivere Quella che è la manovra vera E ancora continuiamo a vedere Le prime pagine dei quotidiani nazionali Ci spostiamo ora Su il tempo Trump infatti anche qui Mette KO vino ed olio italiani L'Unione Europea dichiara guerra USA Per favorire Airbus sui Boeing E provoca la loro vendetta Infatti Washington Minaccia Dazi Sulle importazioni europee Colpendo in questo modo Il nostro agroalimentare E intanto dal governo del DEF Ha approvato un'ombra di flat tax Ma niente crescita E ancora nella parte centrale Balla ancora il decreto rimborsi Non c'è alternativa Troppe promesse La soluzione Conte Era la sola possibile E no Così migliaia di ricorsi Proprio per questa decisione fragile Che rischia pure di essere ingiusta E intanto nella parte bassa della pagina La ZTL a Roma Costa troppo Meno visite infatti nella capitale Le scuole tagliano le gite in centro I prezzi sembrano essere esorbitanti E le situazioni che si vengono a creare Diventano sempre più complicate E quindi accedere anche a questa nostra capitale Sempre più difficili E ancora vediamo la sexy lingeria 5 stelle La sfoggia anche Lady Di Maio E intanto vediamo nella parte bassa La Cassazione assolve l'ex sindaco Marino Per le cene con gli amici Per i giudici il fatto non sussiste Nella parte bassa della pagina La grande sorella della nostra tv Barbara D'Urso tiene sugli ascolti Anche con l'ennesima conduzione Infatti ormai Mediaset sembra vincolata Proprio a questo rapporto con Barbara D'Urso Che ovviamente si diverte tantissimo Gioca ed è libera di fare televisione Ma ovviamente tutti i giorni forse è un po' eccessivo Ed ancora continuiamo a vedere le prime pagine quotidiane Ci spostiamo sui giornali Conti disastrosi Tutto peggio del previsto E infatti nel DEF il governo ammette il flop Pilla picco Crescono debito e pressione fiscale Flat tax Altro blef Tutti la promettono Ma infine non c'è né traccia E ancora vediamo le altre notizie In primo piano Complici della crisi Cari imprese Basta selfie con i politici E intanto l'economia è al palo Caro Salvini Basta ballare sul Titanic Così titola l'articolo di Zacche Ed ancora da Milano Balzerani invitata a parlare Di ecco i cattivi maestri Gli ex BR in cattedra Infatti stiamo parlando di Milano Una sala pubblica di un quartiere difficile Come Bruzzano Nell'ambito di un ciclo di incontri letterali Viene chiamata a presentare il suo libro L'ex brigatista Barbara Balzerani Che ha saldato è vero il suo debito con la giustizia Ma continua a pontificare in modo insopportabile Doloroso per le vittime del terrorismo Insomma anche queste sono le nostre contraddizioni Che vengono sempre più raccontate Ovviamente anche dagli stessi protagonisti In maniera poco articolata E soprattutto difficile da accettare Per chi ha avuto vittime proprio causate da queste persone Ed ancora il guarda sigilli Benedice IPM Manettari Buona fede al convegno E intanto nella parte bassa della pagina Ancora una volta vediamo in primo piano La guerra di Dazi Trampa, Azzamuro Su Prosecco e Pecorino E intanto la sfida All'ultimo voto Israele nel caos Netanyahu Gantz Finisce in pari E infine nella parte bassa della pagina Ancora una volta Si parla di un fatto Che scatonerà tantissime polemiche I veri oscurantisti Che coprono il crocifisso A pieve di cento Teli nella cappella del cimitero Per i morti laici E infatti Ancora una volta Questa è la situazione Che si presenta sempre più complessa Sembra quasi che ovviamente Manifestare quella Che è il proprio credo Dia fastidio ad altre persone Ma probabilmente Ai laici Che semplicemente Non credono Non crea Tutta questa difficoltà E insomma Cerchiamo di essere più morbidi Soprattutto Nel manifestare sicuramente Ma certo Certo è che un crocifisso Probabilmente Non è nulla di così ostentato Ancora continuiamo a vedere Gli altri fatti in primo piano Ma lo facciamo solamente Dopo una pausa pubblicitaria Quindi giusto Una piccola parentesi E poi ritorniamo in studio Non andate via Grazie a tutti Grazie a tutti All'incrocio tra Caserta e il futuro È nato Tecnocampus Un centro direzionale moderno Frutto di un ambizioso progetto Di riqualificazione industriale Che ha messo la qualità del lavoro Al primo posto Tecnocampus Il nuovo centro direzionale di Caserta È collegato direttamente All'A30 Caserta Salerno E dista pochi minuti Dal centro di Caserta Tecnocampus Tecnocampus SRL Viale Lincoln Zona industriale Ex San Goben Caserta Tecnocampus La soluzione Al centro Bentornati in studio È sempre mercoledì 10 aprile Continuiamo la nostra rassegna stampa Continuiamo a vedere sempre i fatti in primo piano E ci spostiamo ora sul quotidiano La Repubblica E vediamo che in apertura Proprio su questa testata Le chiacchiere stanno a 0,2% Il governo alza bandiera bianca Sui conti Ammette che la crescita non c'è Il PIL Quasi a quota zero E intanto il ministro Tria Gela Salvini Sulla flat tax Impossibile sostenerla Senza aumentare l'IVA Di Maio insiste Non faremo un favore ai ricchi Il fondo monetario Roma Maglia nera Dell'Europa E ancora vediamo i commenti al DEF Depliant di finanza elettorale Mentre a Roma La rivincita di Marino La Cassazione Infatti lo assolve E intanto la TAV Cancella i grillini Dalle elezioni In Valsusa Mentre una fotonotizia Nella parte centrale Della pagina Racconta i fatti di Israele Testa a testa Netanyahu dice Ho vinto io E nella parte più bassa Della pagina Eccoci qua Lo sguardo di Ilaria Cucchi E le belle facce D'Italia La storia che viene raccontata Proprio in primo piano Su questa testata Che racconta un fatto Sempre più vergognoso Per la nostra Italia Intanto ancora parliamo Di neofascisti E boss Che minacciano i giornalisti Vogliono il silenzio Sui loro traffici E intanto Vediamo ancora Quali sono le altre notizie In primo piano Dopo 13 anni Un potere Meno saldo Proprio in relazione Ai fatti di Israele Ed ancora Continuiamo a vedere Le testate nazionali Ci spostiamo adesso Sul messaggero Prove di flat tax Scontro sull'IVA Nel DEF Il taglio delle tasse Per le famiglie Saltano le aliquote Salvini Di Maio Litte con Tria Alto là del tesoro Senza risorse Aumenterà l'imposta Sui consumi Crescita intanto Ferma Allo 0,2% E arriva anche L'allarme del MEF Manovra bis vicina Operazione verità Con sponda del colle L'inchiesta Mitinfranti La Svezia Le porte aperte Ai migranti Così il modello Naufraga Ancora una volta In tanti ghetti E infine Vediamo sempre Per quanto riguarda Gli esteri Strani divorzi Brexit Con proroga La MEI Ottiene un sì Dall'Europa Ed intanto Vediamo Nell'editoriale Il Sud Dimenticato La ricetta Che non c'è Nel paese Che galleggia Ovviamente Chiaro è La metafora Che viene utilizzata E nello stesso tempo Continuiamo a vedere Quelli che sono I fatti In primo piano Proprio nella parte centrale E vediamo L'attenzione Che qui viene Riservata maggiormente A questa notizia Marino E le note spese Assolto in Cassazione Ma la ferita Rimane Il fatto non sussiste L'ex sindaco Commosso E illegale Ricordate le accuse Di De Vito e Raggi Ecco Adesso Andiamo avanti Ancora L'intervista Di Molteni Sui Rom Sbaglia Il Campidoglio Ed infine Nella parte centrale Della pagina Israele testa a testa Con il malpremiere In vantaggio Sull'ex militare E infatti Netanyahu e Gantz Cantano già Vittoria Ed ancora Vediamo Nella parte bassa Della pagina La Corte Suprema L'aspetto non conta In caso di stupro Non c'è Ovviamente L'attenuante E ovviamente Questo sarebbe Superfluo Da raccontare Ma purtroppo Sembra che Visti i fatti Visti i giudizi Che hanno dato Nei periodi scorsi Proprio i giudici Questo era necessario Ribadirlo Con forza Ed ancora Vediamo le altre pagine Dei quotidiani nazionali Ci spostiamo Su Il Mattino E andiamo a vedere Quelle che sono Le notizie In primo piano Cominciamo proprio Dalla parte alta Della pagina Eccoci qua Napoli La storia Sembra un'utopia Ma la realtà È tutt'altra La chiesa aperta A 24 ore Su 24 E il parroco Dice Così Tornano i fedeli Probabilmente Questo ci farà sorridere Ma la realtà È ben diversa Visto che La maggior parte Delle chiese Negli orari In cui sarebbero Accessibili A tante persone Che lavorano In realtà Le chiese Sono proprio Chiuse Questa situazione Viene raccontata Da tante persone Già Da tantissimi anni Proprio quel luogo Che dovrebbe essere Accogliente Sempre aperto Alla fine Rimane chiuso Nella stragrande Maggioranza del tempo E adesso Un prete Che comunque Cambia traiettoria Cambia rotta Sembra davvero Dare una svolta E ancora vediamo Gli altri fatti Domani c'è l'Arsenal Mertens Il più in forma A Londra Si gioca nel posto Insigne E Milica E intanto Per quanto riguarda La musica Fabrizio Moro Si confessa Canto La rabbia Dei figli Di nessuno E ancora Vediamo In questa Prima pagina Del mattino Una notizia Che ovviamente Fa tristezza Sempre più San Giovanni A Teduccio Fai da traclano Ucciso Mentre porta Il nipotino A scuola Questa è quella Che è stata definita Proprio da questa È stata oggi Una lezione Di camorra Ma in realtà Forse era proprio così E ancora vediamo Il commento Lo zainetto Che dice Cos'è La vera sicurezza E infatti L'immagine Di questo zainetto Rosso Accanto al lenzuolo Che copre il corpo Senza vita Di Luigi Mignano Non ripropone Soltanto Con drammatica Urgenza Il tema Della sicurezza In città Quanto accaduto A Rione Villa È emblematico E a tempo stesso Allarmante In primo luogo Proprio Per un accostamento Tanto in Naturale E insomma Questa è la situazione Che si presenta Questa mattina A Napoli Ossia una situazione Sempre più allarmante E la vediamo Oggi Semplicemente Perché la sicurezza Che è tanto Stata appaventata Nei mesi scorsi L'aumento Delle forze Dell'ordine L'aumento Dei militari In città Sembra ancora Una volta Essere precario E soprattutto Inesistente Ma ancora Vediamo L'intervista Alla preside Lo Stato Qui non esiste Manca tutto Verde Vigili Agenti Ma ci sono Le stese Tutti i giorni I bambini Sono traumatizzati Pretendiamo L'esercito E ancora Vediamo Le altre notizie In primo piano Mentre a Napoli Si muore Nel governo Nel governo Si continua Ancora A discutere Flat tax Iva In alto mare Approvato Il DEF Annunciata La riforma Fiscale Ma senza Indicare Ne nuove Aliquote Tria Frena Salvini E Di Maio Senza risorse Si aumenta L'imposta Sui consumi PIL Allo 0,2% E ancora Vediamo Le altre notizie Eccoci qua L'analisi Il rilancio Del sud Sparito Dai radar Nel paese In crisi Infatti Come dicevamo Prima Il paese Galleggia Con crescenti Difficoltà Le previsioni Di tutte le istituzioni Sono purtroppo Univoche Il 2019 Sarà un anno Di grande Sofferenza Di recessione Ma l'attenzione Della politica È tutta E solo Sulle elezioni Europee Ed ancora I focus del mattino I nuovi contratti Diritto a stare Disconnessi Le grandi aziende Ci provano Questo è quello Che viene raccontato Proprio da questa prima pagina Il diritto A non rispondere A messaggi A mail Del proprio capo Fuori dall'orario Di lavoro In Francia E legge Ora in Italia Alcune aziende Provano a inserire Nei contratti La clausola Del diritto Pensate un po' Alla disconnessione Ormai siamo tutti Connessi 24 ore al giorno E sembra quasi Impossibile Disconnettersi Al punto tale Che diventerà Necessario O meglio Già sta diventando Necessario Inserire proprio Una clausola Nel contratto Affinché ci si possa Disconnettere Questo è un paradosso Di cui Prima o poi Ci pentiremo Ed ancora In retroscena L'asse tesoro Colle il rischio Della manovra Bis Infatti in consiglio Dei ministri Il ministro Tria respinge L'assalto Dei vicepremieri I due vorrebbero Alzare la previsione Dello 0,2% Ma Tria è convinto Che non sia più Il tempo di numeri dati Che a caso E la credibilità E la credibilità È un argomento Importante Sia nei rapporti Con Bruxelles Che con il Quirinale Che monitora Con attenzione La sostenibilità Delle misure promesse Ed intanto Vediamo Nella parte bassa Della pagina Ancora una volta Il reportage Cairano Il comune Dove da tre anni Non nasce nessuno Pensate un po' Che situazione E intanto Dalla Svezia Il rapporto Con i migranti Le porti aperte Finite Nei ghetti Questa è l'inchiesta Che è stata fatta Proprio dal mattino Mitinfranti Il 58% Degli svedesi Ormai considera Troppi gli immigrati A Soccolma Partendo dal centro Dopo sette stazioni Si arriva a Risne Siamo a Scampia Nella piazzetta Vedete Squadrano i visitatori Ed è impossibile Per un bianco Passare inosservato Pensate un po' Questa è la situazione Tutta svedese E ancora Ci spostiamo Sul manifesto Andiamo a vedere Proprio la prima pagina Ganza avanti Ma Bibi tiene Il voto in Israele Per gli exit poll Testa a testa Tra il generale E il premier E intanto Nella parte centrale Della pagina Proprio in relazione All'approvazione Del DEF E alle polemiche Tra i vice premier E Tria Titola così Tria E molla Lungo tira e molla Nel vertice di maggioranza E il consiglio Dei ministri Lampo Sul DEF Tria Non concede Spot elettorali I conti Non tornano Il deficit sale Di nuovo al 2,4% La crescita È un'illusione 0,2% E i dolori Dettagli Arriveranno Solo dopo Le elezioni europee E ancora Continuiamo a vedere Le prime pagine Dei quotidiani nazionali Andiamo a vedere La parte economica La fiamma Al sole 24 ore Il debito Vola al 132,8% Crescita ferma Più 0,1% E la flat tax Viene individuata Come un accumulo Di parole Quindi fatti lontani Ed ancora Vediamo Nella parte centrale Della pagina Dimissione allo studio Prima tranche Da 10 miliardi Ovviamente Stiamo parlando Delle dismissioni Questo è il punto Sul PIL E ancora Per la spending review Subito tagli Per 2 miliardi Nel 2021 Saliranno a 5 Le stime Solo un più 0,1% Dai due decreti Sullo sviluppo E intanto Da Dubai Ricorso al TAR Su Palazzo Italia E nella parte Bassa Della pagina Trump contro Un'Unione europea Aiuta Airbus Pronti dazzi Pensate un po' Per 11 miliardi Di dollari E intanto Per Diplomazia Affari E un cambio di passo Necessario Tra Unione europea In Cina E Cina E ancora L'allarme Delle banche europee Basilea 3 E un cappio Per le PMI E intanto Per le banche Carige la crisi 2018 E costata 2,4 miliardi Di raccorta E ancora Continuiamo a vedere Le testate economiche Ci spostiamo Su Italia Oggi La sanatoria Più vicino Non è per tutti Non possono essere Definiti rilievi Relativi all'abuso Di diritto E all'esclusione E all'illusione fiscale Ha messo invece Le violazioni commesse Da chi è il regime Agevolativo E intanto Vediamo ancora Dopo un anno Di stretta collaborazione Di Maio scopre Che la Lega Pensate un po' È di destra E ancora Vediamo le altre notizie In primo piano Reddito E quota 100 Stipendi medi Più bassi A fronte Di poca occupazione Ed intanto Cambia la direzione Del quotidiano Degli avvocati E ancora Vediamo i processi Verbali di contestazione La circolare Delle entrate Sulla definizione Agevolata E anche Le notifiche online La sentenza Della Corte Costituzionale Ed infine Gli indicatori Di affidabilità Fiscale Le sfide presentate Dall'agenzia Delle entrate Insomma Ancora Staremo a vedere Che cosa accadrà Nei prossimi mesi Proprio tutto In relazione A quello Che è la questione Fiscale Ed ancora Ci spostiamo Sulle testate Sportive Corriere dello Sporto Questa mattina Apre con Una notizia Che riguarda Un sogno Di nome Vanda Juvea D'Amsterdam Prima di quattro tappe Verso la finale Di Madrid Ed eccoci qua Allegri lancia L'assalto All'Ajax CR7 Gioca Bisogna fare gol Chiellini si arrende Ciarugani in campo Un miliardo di euro Intanto nella parte alta Della pagina Montella Viola Fiorentina ribaltata Pioli si dimette Messo in discussione Come uomo Dopo quattro anni Torna l'aeroplanino Oggi l'annuncio Firma fino a giugno 2020 Ancora vediamo Sempre in questa prima pagina Quali sono i fatti In primo piano Vediamo Aguero sbaglia Il City Card E vince Tottenham 1-0 Contro Guardiola Liverpool in scioltezza Supera il Porto Per 2-0 Ancora vediamo Le altre notizie Ci spostiamo Su un'altra testata Sportiva Tutto Sport E nella parte alta Vediamo che si parla Ancora di Champions Andata a quarti All'eventura Ajax Juve Pensateci voi Ronaldo Mandzukic Bernardeschi Ken in panchina Ma pronto a entrare Servono i loro gol Per prenotare la semifinale Allegri non finisce 0-0 Chiellini resta a Torino Gioca Rugani Giallo Rabioti In Spagna Danno i bianconeri Davanti a tutti E vediamo Questi quattro giocatori Proprio in primo piano E intanto Toro Sempre fra le prime 5-5 Bresciani Ex ragazzo Del fila Zazza Ci darà L'Europa Ed ancora Vediamo Nella parte Destra Della pagina Basket Badocchi In trionfo Moretti Sarà leader E per il volley Conegliano In finale Oggi tocca Annovare Quella che è Considerata la Champions Delle donne Proprio in tema Di pallavolo E anche per queste Prime pagine quotidiane Nazionali È tutto Vi lascio ancora Qualche attimo Di pubblicità Giusto un momentino E ritorniamo Subito dopo Per andare ad esaminare Tutti i fatti Che riguardano La regione campagna La regione campagna All'incrocio tra Caserta e il futuro È nato Tecnocampus Un centro direzionale moderno Frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale Che ha messo la qualità del lavoro al primo posto Tecnocampus Il nuovo centro direzionale di Caserta È collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno E dista pochi minuti dal centro di Caserta Tecnocampus SRL Viale Lincoln Zona industriale Ex San Goben Caserta Tecnocampus La soluzione Al centro Ed eccoci ritornati in studio Pronti per affrontare quelle che sono le tematiche che riguardano la regione campagna Partiamo da Napoli e poi via via ci spostiamo a tutte le altre province Cominciamo infatti a vedere quelli che sono i fatti in primo piano Ieri ha fatto tanto discutere la notizia di uno scambio di offese e video In relazione ad un evento che ha riguardato un imprenditore napoletano E la sua Ferrari parcheggiata su un posto per disabili Lo scontro è stato fortissimo tra lui e il consigliere Borrelli E infatti vediamo questa mattina quali sono gli aggiornamenti Napoli il ristoratore con la Ferrari nello spazio per i disabili dice ho sbagliato Ma mi ero fermato solo un attimo Pino Bozza alla lite col consigliere regionale Borrelli Non dovevo reagire così Mi sono sentito il mondo contro e non ci ho visto più Infatti è quello che ha riconosciuto Ho sbagliato in quel video in cui insulto il consigliere dei Verdi Francesco Borrelli Signor Pino Bozza Lei lo insulta con parole pesanti, ingiuriose, da querela Perché lui mi ha trattato con cattiveria accusandomi di cose non vere Vediamo qua proprio il parcheggio sulle strisce gialle Ma l'auto era in sosta sullo spazio per disabili Non è un falso La macchina non era in sosta Mi ero solo firmato un attimo per salutare un amico Se mi accusa di non rispettare i disabili è solo una cattiveria Io per i disabili faccio molto Senza rendere pubblico il fatto che sostengo associazioni Tascamia Medio con i calciatori del Napoli Quando donano qualcosa ai bambini o ai disabili Tanta sensibilità però si sposa male con le ingiurie rivolte al consigliere regionale Ho fatto una pessima figura con quella reazione smodata Ma anche lui mi ha trattato con cattiveria Mi sono sentito il mondo contro e non ci ho visto più Chiede scusa? Mi chiedo piuttosto se il problema non nasca dalla mia macchina Se non avessi avuto una Ferrari in questo mondo di guardoni Nessuno mi avrebbe detto niente Ma se tutto è stato scatenato dalla mia auto Voglio sottolineare che la Ferrari me la sono guadagnata Lavorando onestamente 30 anni fa facevo portapizze anche sotto la pioggia Ho mangiato scatolette di tonno per settimane Insomma una vicenda sempre più complicata e intricata Ma soprattutto che rasenta il ridicolo Anche perché ovviamente ciascuno di noi Ferrari o non Ferrari Quando vediamo un posto per disabili Dovremmo cercare di evitarlo e lasciarlo a chi effettivamente ne ha una necessità Sicuramente più impellente di quella che abbiamo noi Tra virgolette senza disabilità Ma a questo punto mi viene il dubbio che forse la disabilità è un'altra E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano E ci spostiamo proprio sulla prima pagina della Repubblica Dove Napoli racconta che nel weekend chiude la metrolinea 2 Il comune assicura più bus in strada E infatti sabato 13 e domenica 14 S'autorizzazione della regione Campania Il servizio della linea 2 della metropolitana di Napoli Gestito dal gruppo Ferrovie dello Stato italiane Sarà completamente interrotto tra le stazioni Napoli-Campi-Flegrei E Napoli-San Giovanni Barra per indifferibili lavori di manutenzione programmata Tale evento si ripeterà poi di nuovo anche l'11 e il 12 maggio Ancora andiamo a vedere le altre testate online Dal mattino incurabili e la farmacia storica adesso trasloca Pensate un po' all'Università Vambitelli Perché la situazione è sempre più critica In base antiche della farmacia degli incurabili saranno salvati Ma non verranno banalmente riposti in contenitori E trasferiti in un deposito in attesa della rinascita Dalla storica farmacia Continueranno a restare in mostra Solo una cinquantina di metri Più in là dovrebbe essere questo Il Museo Universitario dell'Università Vambitelli in Viammani La strada che collega gli incurabili e i decumani Ad accogliere la collezione di albarelli e idrie Ossia i vasi decorati Che lasceranno temporaneamente appunto la farmacia Ed ancora dalla bellezza salvata Ci spostiamo sempre su Il Mattino Ed andiamo a vedere la cronaca Napoli-Devittorione-Villa Un furto di scooter pretesto per l'attacco al clan nemico Infatti una notte in sonno per i due kill Sono rimasti svegli ma diciamo pure schizzati o appicciati Fino alle prime ore del mattino In attesa del momento giusto Hanno aspettato la soffiata in un appartamento di edilizia popolare Quando le piazze di droga sono chiuse E le sentinelle del clan Rinaldi hanno il mirino abbassato Poi ecco l'insella allo scooter Sono le 8.45 del mattino Scuole aperte Via vai di gente hanno seguito il target L'obiettivo designato da punire Perché aveva usato mettersi di traverso In una vicenda di poco conto E a quel punto arrivati proprio davanti alla scuola Che cosa hanno fatto? Hanno sparato Senza tenere conto di chi ci fosse al di fuori Della vittima prescelta Ed ancora vediamo in primo piano Gli altri fatti che arrivano da Napoli Sanità, la campagna, recuperare il gap Sui livelli di assistenza Ma il Movimento 5 Stelle non soddisfatto Dice non basta Commissario per la Sanità in Campania La stretta in Movimento 5 Stelle A cui spetta proporre un nome Ci sarebbe sul Fulvio Moirano Già supermanager in Sardegna Stimato da Grelini anche nelle grazie della Lega Sarebbe il punto di massima mediazione Tra i partiti di governo Per procedere alla sostituzione Di Vincenzo De Luca nel ruolo Nomina che sta per maturare Dopo lo scontro I due partiti di maggioranza In vista delle europee di fine maggio Ma anche alla luce dell'esigenza Del Movimento 5 Stelle Di fissare proprio un paletto in regione Di contro il governatore della Campania Dice state sbagliando assolutamente Perché tutti i punti all'ordine del giorno Tutto quello che doveva fare la sanità campana L'ha raggiunto E adesso non riesco a capire proprio Perché si arrivi a questo Ed ancora ci spostiamo Sulla cronaca della provincia di Caserta Restati i pasticceri di Zagaria Pizzini a case per ribosso latitante Lo vediamo attraverso Caserta News Altri otto indagati a piede libero Per intestazione fittizia di beni E vediamo infatti Nelle prime ore della mattinata di ieri Gli agenti della Polizia di Stato di Caserta E della Direzione Investigativa Antimafia Di Bologna e Napoli Hanno dato esecuzione ad un'ordinanza Di custodia cautelare in carcere Emessa dall'ufficio del giudice Per le indagini preliminari di Napoli Su richiesta della locale direzione Distrettuale Antimafia Carico di Pasquale Fontana 46 anni E Giuseppe Santoro 51 anni Titolari di noti Punti vendita nel settore dolciario Denominati Butterfly Con locali siti su tutto il territorio campano Gravemente indiziati del diritto E associazione per delinquere di tipo mafioso E del diritto di intestazione fittizia di beni Aggravata dal metodo mafioso Ancora continuiamo a vedere le notizie Che riguardano la provincia di Caserta Colpi di fucili ad orta di Atella Contro il ristorante L'ombra del racket di Camorra Ancora una volta la cronaca in primo piano Colpi di fucili infatti Contro la locanda degli artisti Ad orta di Atella In via Lanzano Un uomo solo Col volto nascosto Da un passamontagna Nella mattinata di ieri Ha sparato più colpi Contro il ristorante L'autore del ride criminale È stato ripreso Dalle telecamere Scaricate Ha scaricato numerosi colpi Contro le Sernande Prima di allontanarsi dal posto A bordo di un'autovettura Sulla vicenda Indagano i carabinieri Della compagnia di Marcianise Non si esclude La pista del racket di Camorra Ed ancora ci spostiamo Su Caserta Focus Andiamo a vedere altri fatti In primo piano E in primo piano Torna ancora una volta E purtroppo è il caso di dirlo Visto che questa primavera Tarda ad arrivare L'allarme che deriva Proprio dalla protezione civile Pioggia e vento forte Dalle 12 di oggi Allerta meteo E infatti viene proprio Raccontato così È di nuovo emergenza Mal tempo Sono previsti due giorni di pioggia Sulla provincia di Caserta E sulla regione Campania La protezione civile Ha diramato un avviso Di allerta meteo Con livello di criticità Idrogeologica Connessa alle precipitazioni Di colore giallo Valevole a partire Dalle 12 di oggi E fino alle 12 di domani Giovedì Sono previste precipitazioni sparse Anche a carattere di rovescio O locale temporale Puntualmente di moderata intensità Ma con possibili raffiche di vento La protezione civile regionale Raccomanda alle autorità competenti Di garantire l'attuazione Di tutte le misure A prevenire e contrastare I fenomeni così attesi È ancora cronaca Dalle pagine di Caserta Focus Vediamo infatti una vicenda Che ha scatenato la paura a Caserta Un bimbo di 11 anni Travolto da una lancia Mentre era in sella Alla sua bici In via GM Bosco E andiamo a vedere Proprio questa notizia È veramente Il panico in via GM Bosco Poco dopo le 20 di ieri Un ragazzino di 11 anni È stato travolto Proprio da una lancia Y Mentre attraversava la strada In sella alla sua bici L'impatto è stato violento E il ragazzino È stato sbalzato Di qualche metro Il conducente della vettura Si è allontanato Secondo quanto raccontato Dai passanti Anche se bisognerà Attendere la ricostruzione Degli inquirenti Per capire realmente Cosa sia accaduto Insomma Una vicenda Ancora una volta Che riguarda Chi semplicemente Su un mezzo di trasporto Semplice Come una bicicletta O comunque a piedi Attraversando le vie Della città Si trova in difficoltà Difficoltà causata Proprio da chi guida In maniera Probabilmente Sleale Usiamo il termine Sleale Perché la realtà È questo Chi va contro Le regole O comunque Non presta La sufficiente Attenzione È davvero Una persona sleale Ancora vediamo Gli altri fatti In primo piano Ci spostiamo Su Caserta Prima pagina Un presidente per bene Come Ernesto Boccia Non poteva che dimettersi Troppi interessi In FIPAV Campania Pasciari commissario E vediamo infatti Di che cosa stiamo parlando Eccoci qua Boccia è una persona seria Per bene Non si è fatto Scivolare le cose addosso E si è dimesso Il dato vero Che in FIPAV Campania Regionale Ci sono troppi interessi Ora per il nuovo commissario Che è Pascari Si apre una nuova situazione E consigliere nazionale Un potente vero Nella FIPAV Persona degna del ruolo Ma deve traghettare subito La FIPAV regionale Campana Alle elezioni Non può perdere tempo E deve far capire Il metodo E il programma Boccia è innescato Con le sue dimissioni Un processo pericoloso E sicuramente Da non sottovalutare Come sempre Neanche questa rassegna stampa Sottovaluta niente Nessuna testata Tutta l'informazione Viene presa Al vaglio Viene valutata E comunque raccontata Ogni giorno In maniera differente E comunque Ricordiamo a tutti voi Che l'appuntamento Torna domani Perché anche per oggi La rassegna stampa Termina qui Vi ringrazio per averci seguito E soprattutto Vi auguro una splendida giornata Ringrazio come ogni giorno Tecnocampus Che ci offre la possibilità Di fare informazione Insieme a voi E un grazie particolare A tutti voi Che ci seguite sempre Buona giornata a tutti Grazie a tutti Questo programma È stato offerto Da Tecnocampus Grazie a tutti Grazie a tutti.